L'attorno Calipo Vibo Valencia punta sul fattore Marcord per costruire il nuovo gruppo che prenderà parte al campionato di serie a due maschile. O meglio, sono già tanti gli ex giocatori giallorossi che si sarebbero offerti alla società vibonese pur di tornare ad indossare la maglia della Calipo. Tra di loro atleti sui quali la dirigenza potrebbe focalizzare l'attenzione sul serio per puntare ad un campionato di vertice, come annunciato dal patron Pippo Calipo il giorno della decisione di rientrare in serie a maschile. Quella A2 in azzurro in cui c'è già Corigliano allenato da Daniele Ricci, altra figura da Marcord giallorossa, l'uomo che nel 2004 portò Vibo nell'olimpo della pallavola italiana partendo proprio dalla A2. Qualcosa che il tecnico Ravennate vorrebbe regalare sul campo anche ai tifosi della città dell'Oionio, anche se continua ad allargarsi a macchia d'olio, la voce che vorrebbe la Caffè Aiello pronta al ripescaggio in serie A1. Ripescaggio ma in a2 che potrebbe richiedere anche la deseta cosenza, sfruttando i buchi che con molte probabilità verranno lasciati dai club che sono a rischio iscrizione.